www.bacchini www.bacchini.com www.bacchini.com Re e manna a fanculo signor di Girolamo che a vacanze lo vuoi uscirà il nove ma che non ti succede SAPPA CULA non ti succede perché mi hai sequestrato il libretto allora tu mi dici ma la mia chita è morta è passata tanta vuoi perché la morte è troppo facile e ti ha andato succede tutte in vacanza a quanto muore tu e quella bucchina di mamma di 16 chiudiamo la mia chita www.kisenefote.it